ciao a tutti e bentornati sul canale oggi vi faccio vedere come preparare in casa un burro di mandorle al cacao con questo burro potete preparare in casa tantissimi snack sani e golosi ma anche utilizzare questa crema per esempio per accompagnare le vostre colazioni ed è buonissima si prepara facilmente adesso vi faccio vedere come farla vi occorreranno 200 grammi di mandorle pelate che andremo a mettere all'interno di un mixer molto potente in questo caso io sto utilizzando il bimbi perché trita davvero bene insieme a 35 grammi di olio di girasole un cucchiaino di miele e un cucchiaino di cacao amaro il miele può essere sostituito con lo zucchero oppure con lo sciroppo di agave tritate più volte il composto fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea a questo punto trasferite la crema all'interno di un contenitore da un coperchio e questa poi andrà conservata in frigo per circa tre settimane il burro di mandorle è ottimo come vi dicevo per preparare tantissimi snack vi ho preparato un video con tante ricette che uscirà prossimamente quindi mi raccomando continuate a seguirmi se siete nuove iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video se questo video ti è piaciuto lasciami un like io ti mando un bacio e ci vediamo presto nel prossimo video ciao 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 ciao